Subito un primo giudizio su questa prima uscita stagionale. Non è un giudizio, è una squadra che sta lavorando molto, quindi sono un po' pesanti, però sono viste delle buone cose, soprattutto nel secondo tempo. Poi per il gioco che fa il mister, magari questo campo è un pochettino piccolino, perché magari a spazi più ampi vedi una partita diversa. Però bene, 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 i ragazzi, i giovani, ma tutti quanti con il piglio giusto. Tra pochi spunti tecnici che si possono vedere in una partita di luglio, comunque Franchini che si è adattato bene nel ruolo di centrocampista centrale a due. Franchini in passato ha sempre fatto il centrocampista a due. È un giocatore che ha qualità importanti, ha un fisico che al posto suo ci camperà di rendita in questo campionato. Non è una scoperta. Deve stare un po' più calmo Franchini, perché poi magari rischia, come oggi, non bisogna reagire mai. Allora, visto che non ci sono tanti spunti tecnici per questa partita, proviamo a tirare fuori qualche spunto di mercato. Com'è la situazione, Presidente? Partendo dall'Emmers, operazione chiusa con il Lecce? Dovrebbe essere chiusa. Il direttore Corvino ci ha assicurato che ce lo manda, quindi siccome Corvino... Con Samolò? Intanto arriva l'Emmers, che è quello che ci serve. Perché poi oggi abbiamo visto che alla fine il mister ha dovuto adattare diversi giocatori in quel ruolo. E poi, piano piano, se ci saranno delle uscite, ci saranno anche delle entrate. Perché oggi avevamo fuori Bentivegni, avevamo fuori Merola, avevamo fuori Cangiano, che è appena arrivato. Quindi è una squadra che già è abbastanza completa. A proposito, non c'erano neanche Meazzi, non c'era Tomassini e non c'era Squizzato. Che è successo? No, Meazzi credo che abbia un po' di influenza. Squizzato l'ha avuto ieri. Anzi, Meazzi probabilmente si sta riprendendo, perché qui... Tomassini? E Tomassini pure. Ha preso una botta durante la settimana, ma è a posto, sta riprendendo anche lui. Quindi siamo tutti. In attacco, ieri è rimbalzata una notizia importante, una voce di mercato importante. Stefano Pettinari dalla Reggiana, giocatore importante che Pescara si conosce bene. C'è qualcosa di vero? Non credo che ci sia possibilità di fare un'operazione del genere, perché non mi risulta. Per cui sicuramente Stefano è un giocatore forte, come dici tu, ma non credo che abbia voglia di scendere in cima. Parliamo allora di qualche scambio possibile con il Crotone, ad esempio Colai, che è sembrato molto ispirato. E a voi serve un tersino sinistro, perché è in uscita piga. Potrebbe essere Colai, Crielese lo scambio? No, vediamo. C'è tanto tempo ancora e non bisogna avere fretta, secondo me, nel dare i giudizi sui giocatori. Perché poi, magari, quello che oggi sembra che è un po' indietro, poi lo vedi quando cominciano a girare le gambe, sembra un altro giocatore. Per cui bisogna stare tranquilli. Noi dobbiamo andare a prendere quei giocatori che mancano. Oggi manca un tersino destro, sicuro, e quindi bisogna prenderlo. Poi, evidentemente, bisogna fare la coppia anche lì e poi far uscire qualcuno che è di più, o qualcuno che ha mercato, e poi aspettare le occasioni. Perché oggi tanti giocatori non vogliono scendere in C. Fra qualche giorno, fra dieci giorni, quelli che si rendono conto che magari una C buona vale una B, ci possono pensare. Quindi non bisogna avere fretta, perché il mercato poi ci insegna che negli ultimi giorni escono giocatori importanti e se poi tu sei pieno rischi di perdere queste possibilità. Quindi la squadra è abbastanza completa. Io sono molto contento, soprattutto dei giovani, perché i giovani che sono aggregati qui sono tutti quanti bravi, di grande prospettiva, e quindi non bisogna pensare di andare a prendere altri. Quando invece, perché poi se noi ci riempiamo sempre la bocca con i giovani, i giovani poi non li facciamo giocare. Allora, le chiedo le ultime cose, gli ultimi due nomi in entrata che circano da tempo, che sono due uomini, virgolette, fidati del direttore Pasquale Foggia. Mi riferisco a Tuia in difesa e a Riccardo in prota. Sono due giocatori importanti, però ripeto, anche lì, noi purtroppo non possiamo fare entrate e mettere gente fuori lista. Quindi prima bisogna fare uscite. Allora, parliamo di uscite. E poi eventualmente le entrate. Cominciando con Plizzari, non per qualcosa, ma per il ruolo. Cominciamo dal portiere. C'è questa possibilità con il Venezia che magari poi lo posso lasciare anche in prestito? Alessandro è chiaro che ha fatto molto bene negli ultimi due anni, quindi ha sicuramente delle attenzioni. Se dovesse uscire dovremmo cercare uno di pari livello, non sarà sicuramente facile. Ma l'opzione è che il Venezia lo lascia in prestito? Ma questo lo vedremo. Io per me li terrei tutti, perché sono tutti giocatori forti e che soprattutto sono ragazzi per bene, ragazzi che hanno dimostrato attaccamento a questa maglia. Per cui è chiaro che però Pescara molte volte è un trampolino di lancio per tanti e quindi bisogna aspettare quello che dirà il mercato. Se il mercato ci porterà qualcosa di buono, avremmo anche poi le risorse per fare a nostra volta un mercato anche noi importante. Se non dovesse essere ci teniamo stretti i giocatori che ci abbiamo, perché non sono da bene a nessuno. Andiamo a centrocampo. Squizzato e Tuniov la situazione? Squizzato e Tuniov la situazione è la medesima dell'inizio del mercato. Ci sono attenzioni perché sono due giocatori squizzato, l'altro hanno fatto molto bene, Tuniov giocando anche poco ha fatto sette gol, è stato più in nazionale che con noi, è un giocatore dalle qualità importanti, è chiaro che qualcuno ci guarda, poi vedremo. L'ultima in attacco partendo da Merola che si sta curando questa fastidiosa pubalgia e che è l'oggetto del desiderio del Catania. Qual è la verità? Ma Merola non è l'oggetto del desiderio solo del Catania per fortuna, è l'oggetto del desiderio di diverse squadre anche di categoria superiore. Adesso si sta curando, credo che nei primi giorni di agosto lo rivedremo a Pescara in gruppo e appena tornerà vedremo, perché anche lì va lo stesso discorso per Pizzari. Se le richieste sono importanti, bene, io non regalo nessuno, lo sapete, quindi se non sono importanti Merola rimane a Pescara e giocherà col Pescara. Chiudo con Vergani e con Colai. A vederli oggi mi sembra che hanno capito che bisogna mettere qualcosa in più in campo, sia Vergani che Colai, Colai è entrato molto bene, Vergani ha fatto tutta la partita correndo e dannandosi l'anima là davanti, per cui sulle qualità dei giocatori che abbiamo non si discute, però questo è un campionato dove bisogna metterci qualcosa in più e se capiscono questo sono giocatori importanti. A proposito di Cangiano, che abbiamo visto che è qui dietro, possiamo definirla un'operazione alla Merola quando è arrivato a gennaio di un anno e mezzo? Nel senso, giocatore su cui il Pescara crede molto e che poi potrà avere un futuro importante. Cangiano è un mio pallino da sempre, è un giocatore che ha delle qualità straordinarie, è un giocatore al quale questa mattina ho raccontato la storia di Caprari, che mi sembra un po' uguale alla sua, perché è un giocatore con una qualità importante, che però deve capire che questa qualità deve essere messa molte volte anche a servizio della squadra, non bisogna giocare molto per i fatti propri, ma giocare di più per la squadra. Le qualità che ha Cangiano non le devo sicuramente scoprire io, perché ha delle qualità che non c'entrano niente con la Serie C.